A Firenze esiste un centro specializzato esclusivamente per i 4x4. Eh sì, Bettini Automobili ha pensato anche a questo. A Firenze Sud, in via De Nicola, davanti al teatro Sashol, la più grande vetrina di fuoristrada. Dalla più piccola a misura di città, alla più lussuosa ed aggressiva. Se cerchi un 4x4, hai trovato il posto giusto. Auto nuove, delle marche più ricercate e usate, a prezzi davvero interessanti. Tutte ovviamente con la garanzia Bettini Automobili. Se ti avvicini per la prima volta al magico mondo del fuoristrada o semplicemente vuoi provare una nuova avventura, il centro 4x4 di Bettini Automobili è quello che fa per te. Un punto di riferimento per tutti gli amanti del fuoristrada. Inoltre potete trovare tante altre occasioni dalla minicar alla supercar al centro usato in via Empoli a Firenze Nord. Tutte ovviamente garantite da Bettini Automobili. Inoltre potete trovare tante altre occasioni dalla minicar alla supercar al centro usato in via Empoli a Firenze Nord. Grazie a tutti.